Buongiorno a tutti, ciao Gioacchino, Gioacchino Ballo, owner di Axiomedia, un'azienda che in realtà si rivolge sia ai consumatori ma anche ai professionisti, famosissima per quanto mi riguarda per la vendita di componenti altoparlanti, elettronica, con cui gioco talvolta insieme al compagno di merenda e Gian Piero Matarazzo. Gioacchino, puoi spiegare un po' ai nostri appassionati di che cosa si occupa la tua azienda? Sì, allora Axiomedia sta occupandosi principalmente della distribuzione dei più grossi marchi di componentistica audio e alta fedeltà a livello europeo. Adesso stiamo iniziando anche con prodotti extra europei come Daiton Audio, di cui abbiamo la distribuzione da qualche mese, quindi possiamo enumerare... Ascolta, ma Daiton Audio anche... Tutto il catalogo Daiton Audio... Compresi gli strumenti di misura, i microfoni, il misuratore di impedenza... Che sono in arrivo il 15 di novembre. 15 di novembre, ok. Probabilmente anche prima, purtroppo le date di consegna in questo periodo sono molto incerte a causa delle problematiche covid che non permettono le consegne in tempi stabiliti. Però diciamo che il nostro catalogo è veramente molto vasto, va da Scanspeak, Seas, Audax, Morel, SB Acoustic, per passare poi alla componentistica come Janssen Audio, Clarity Cup, Moondorf, connettori tipo VBT, Viborg Audio, RAM Audio... Quindi insomma abbiamo veramente di più, di tutto e di più. E invece cosa porti? Oggi siamo al Melia, questo è il primo giorno, anzi manca pochissimo l'apertura. Cosa hai portato invece qui al Melia? Allora, al Melia abbiamo... Ci siamo prefissati di portare avanti una missione. A parte la solita componentistica, quindi connettore e cavi che sono di uso-consumo per tutti i visitatori e che quindi ci attendono puntualmente a questo appuntamento annuale, ci siamo fissati una nuova missione, quello di cercare di coinvolgere le nuove generazioni e portarle all'alta fedeltà. Oggi i giovani sono principalmente orientati all'oggetto pratico, quindi smartphone, cuffiette vanno avanti così. Per poterle portare all'alta fedeltà dobbiamo cominciare a introdurli con prezzi ragionevoli. Qui in fiera abbiamo portato degli amplificatori o degli oggetti che sono giusto di introduzione all'audio. Quindi il primo step successivo alla cuffietta dello smartphone. Giusto per cominciare a far gustare la differenza fra il suono della cuffietta e un mini impianto audio. Da lì poi speriamo che ci sia un'evoluzione, una passione che possa essere alimentata per poi passare agli impianti più evoluti, più importanti, che ovviamente sono ad appannaggio dei professionisti dell'alta fedeltà che sono qui tantissimi e numerosi. Quindi noi ci prefissiamo semplicemente di mettere il seme per l'alta fedeltà nelle nuove generazioni. Niente di più, quindi niente di super professionale, super esoterico, ma qualcosa di semplice alla portata di tutti per cercare di iniziare. Benissimo, senti invece una domanda su Dayton Audio in particolare. Tu hai detto che non sai ancora quando arriveranno i primi pezzi. Sì, esatto. Sono molto interessato a Dayton Audio perché ci siamo già occupati su AV Magazine. Abbiamo fatto il test con Gian Piero di uno dei bookshelf più interessanti con il Twitter AMT con un prezzo pazzesco. Esatto. E anche Gian Piero è rimasto sorpreso. E' rimasto sorpreso, non solo, ti dirò di più, che Gian Piero ha anche fatto un filtro crossover alternativo. Esatto, mi ricordo. Con i tuoi componenti d'altronde. E quindi mi piacerebbe approfondire anche perché sono prodotti molto interessanti e sono contento che li abbia presi tu, finalmente. Perché praticamente in Europa mi sembra che c'è solo un distributore olandese che ha dei prezzi allucinanti. Esatto. E quindi sono molto curioso e adesso verrò da te al tuo stand a vedere un po' di roba. Con piacere. E a farti subito un ordine per qualche pezzo, dai Tonadio. D'accordo. Va benissimo. Grazie Gioacchino. Grazie a te Emilio, grazie a tutti. Grazie a te Emilio. Grazie a te Emilio.